Ciao ragazzi, oggi giochiamo tutti insieme a Mario Party Superstars! Cominciamo! Il gioco che raggruppa tutti i 10 Mario Party storici in una nuova versione! Mario Party! Partiamo con una grande avventura! Siamo entrati nel tubo? Siamo proprio nel tubo, non vedo niente! Nicola vedi qualcosa? No! Inizio! Eccoci! Stiamo cadendo con Koopa! Stavo per iniziare l'avventura! Non avevo mai capito la sensazione di entrare in un tubo! E' questa! Un bel olore! Chi sarà la superstar ragazzi? Sai già come si gioca? No! Questo è un tabellone per muoversi, si usano i dadi! Fermarsi su uno spazio blu è una buona cosa, su uno rosso no! Se finisci su uno spazio blu otterrai delle monete, bello vero? Mi piace! Ma sugli spazi rossi le monete le perderai! E gli spazi Bowser sono peggio! Gli spazi verdi avviano un evento, tutto qui! Spera di essere stato chiaro! Quando tutti hanno terminato il turno parte un mini gioco! Adoro! Bisogna tenersi pronti! Guarda devi mangiare la pizza! Molto interessante! Mangia pizza! Sono un campione! Impegnati nei mini giochi per ottenere ancora più monete! Datti da fare! Vai! In alcuni punti del tabellone puoi ottenere una stella in cambio di monete! Vince che alla fine dei turni ha più stelle! Diventando così la superstar! Tu sei l'arancione! Io faccio Daisy verde! Scelgo Peach! Io scelgo Mario! Mario time! Mario time! Tutti pronti? Sì! Ciao Peach! Sono mia eroina! Esplora due isole collegate da punti! Guardate! Come cade Peach! Avventi! Si! 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 Hai ragione! Mentre Daisy come fa? Ha messo la colla! Eh si! Tocca di cuplano di piggio di pilota a tre stelline! Uh! Quattro stelline! Moscoso quattro! Cominciamo con il livello semplice! Partita veloce! Siamo pronti? Yes! Si! Vai! Si comincia! Wow! Vai! Uuuuuh! Vedo la luce! Uuuuh! Mi sta acciccando la luce aiuto! In spiaggia col vestito! Se abbiamo fatto eccoci al tabellone l'isola tropicale di Yoshi! Questa è l'isola melone è un paradiso tropicale in cui la frutta abbondava! Questa è l'isola grandanguria immaginavo! Guardate là! Bose sta prendendo il sole! Come prima cosa decideremo l'ordine di partenza! Parto io! 10! 10! 4! Vai! Colpisci! 3! Mario ultimo! Ecco delle monete box! Oh grazie! Bene! Ora dove sarà la stella? Ecco! Toadette come Mario qua! Che ci dici dove la stella? Ecco la stella! Mi raccomando! Raccogliate le più monete che potete mentre vi dirigete qui! Sarà fatto! Primo turno! Vai! Da dove? Lancia lancia! Uh! 7! 7! Non è male! 6! 6! Blu è bene! Infatti ho preso monete! 9! Fortunella! Oh Yoshi! Che ti spinta! È di là! Devi andare! Dove vai? Di qua? No! 39 alla stella! È normale! Eh! È sbagliato strada! 3! 3! 3! Ci attendiamo più a... 2! Ragazzi! Finisco sul fungo eh! Spazio oggetto! Bella la ruota! Via! Uh! Non vede niente! A 9 secondi! Vai vai! Dove l'ho fermata? Mi ti raggiudate insieme! Non mi piace! Vado avanti al nastro! Mi gioco! Il primo minigioco ragazzi! Vai! Oh lo sceglie lo sceglie lo sceglie! Lotta l'ultima posa! Oh bello! Come sempre possiamo fare delle prove! Quindi così ci si muove! Poi si salta! Ah! Poi si spinge l'avversario! Per fare la foto! Occhio! Eh! No! Non sono! Ragazzi! Mancano pochi secondi della foto! Ehi! Fatemi stare sul podio! Sì sì sì! Sono sul podio! Uffa! Guardate che carino che sono! Beh Peach sta facendo un salto mortale! È bello che ci sono stata tutto il tempo! Uffa! Ultimo! Secondo turno! Dieci! Pedaggio e monete! Una moneta sì! Eccolo! Facile facile! Oh la casella rossa! Otto! Questo è il mio negozio! Vuoi comprare qualcosa? Fungo dado dado dado! Dado maledetto! Blocco teletrasporto! Dado numero fortunato! Il fungo! Più 5 è il risultato del dado per avanzare! Yes! Ma guarda! Un blocco è nascosto! Piaccia? Yes! Questa fortunella! Vai Peach! Saluta tutti! Vai! 9! Brava Peach! Grande montaggio! Quindi vuol dire che se poi ci passo io sono tre monete! Eh sì! Con che eleganza! Mario c'è! Capace! Solo la seconda casella! Ok! Se prendete vinci! Però sì! Userò l'oggetto! Dado doppio! Uh! Adesso ragazzi! Sette! Certo che! Sette! Vabbè ragazzi! Devi fare venti però! Tanto devo solo pagare tre monete! Grazie a voi! Mi sa se io ma ti pagavano di più! Tu devi pagare ancora di più mi sa eh! Tutti un blocco un duo.. tustu tu tu tu! Oh! Oh! È also tu un blocco nascosto! Monete! Yii! Più sette! Uhuu! Minigioco! Uno contro tre! Uhuu! Io contro voi eh! Yoshi contro tutti! Siete pronti ragazzi? Nascondino sul barco Sergei sul barco Ah noi ci muoviamo! Ohrabbi! Ah noi dobbiamo nasconderci! E tu devi ricordarti dove healer siamo! Ahaha adesso noi ci nascondiamo! Turno uno! Deniscri guarda bene eh! salgo i pulsantoni oh c'è nessuno eravamo là turno 2 riusciremo ad ingannarlo? si speriamo come ci venga adesso io ho messo in sotto il fungo tu? io ho il sasso veramente? no non c'è nessuno ma neanche dietro il fungo io al pizzo siamo rimasti là vediamo quale schiaccerà? il fungo di nuovo? chi c'è? nessuno noi siamo sempre lì grande la squadra ha vinto vai Yoshi ti puoi rifare subito 9 e manca solo uno per la stella niente ah non hai abbastanza monete per quello vuoi guadagnarle mamma posso sgraffignare una stella o delle monete a qualcuno dimmi tu no bucci sgraffigna scendi a caso no meno 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 no perché? Ale perché sono seduto dietro di lui diciamo cambio no cremi per scacciarlo attenzione a cosa scacciarlo? guarda che mi lecca no meno 11 vediamo no va bene ma quelli cosa sono? sticker quelli? si sono gli sticker cui esultano spazio contro vi sconterete il minigioco in palio c'erano le vostre monete uhlala ah no prenderà 5 ha scelto lui ah lui scelto un monte premio di 20 monete mamma occhio al minigioco bello mi piace i rotoloni il colore dei funghi il colore di todal sarà un cartello noi dobbiamo correre sull'esagono di quel colore giallo 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 grazie ragazzi ma avete fatto tutto da soli desi 14 monete ciao ragazzi fungo più 5 mi raccomando 4 più 5 fa 9 ho una bellissima cosa per te spero che tu abbia qualche risparmio te lo cedo per solo 13 monete praticamente te lo sto regalando ma eeeh vabbè non è che puoi scegliere il dado maledetto grazie è solo 1 e 3 che bel regalo può servire a qualcosa un gico che costa 3 monete al negozio a me cosa importa te l'ha venduto più di quanto costa il negozio ma mica di poco stavolta la vinco io eh ci proviamo no no contaci gli occhi quante monete voglio puntare 20 20 monete da ogni concorrente guardate la faccia di Mati scusate quindi eh ragazzi è importantissimo ci sono 3 io sono a 5 80 monete in palio io sono a 2 80 monete in palio eh vai che sia un minigioco buono scegli Ale di soppiatto vediamo cosa dobbiamo fare ti avvicinati con cautela e cateniancia cercando di non svegliarlo ritirati nel barile per non farti vedere ah devi anche uscire devo anche uscire andiamo a giocare andiamo a giocare dai ragazzi è impossibile è impossibile ma vale un sacco di monete io non rischio occhio no no mi ha messo nel tubo fermo Nikki oh ma da un previso lui o no 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 vai Nikki basta 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 Nikki scendi 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 nooo e quindi cosa vuol dire che abbiamo perso tutti quarto 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 e quindi le monete parità monete per tutti questa è una buona tattica si non è male 20 a tutti non è male come tecnica Peach tocca a te dadu 5 non è male mancava pochissimo per la stella nooo oh casella rossa mario ten oh vai a 4 eh spazio imprevisto sarà una cosa bella oh oh no ciao ecco il posto della stella ha messo un posto no figli adesso dobbiamo andare in un altro posto mamma sei vicinissima tu incredibile sì l'abbiamo capito che si sono scambiati di posto grazie beh mini gioco 2 contro 2 mamma vai 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 ok veloce vediamo come si gioca l'olta mamma sì solo muoverci sono su e giù punto come è stato punto no come aspettate no autogol punto bellissimo questo sarà già il gioco dell'anno sì l'ho presa occhio Marti difesa difesa grande no no autogol bellissimo andiamo a giocare questo è uno di quei giochi che non smetterai mai no sì dai fino alla bella la bella la bella la prendi lava ti ho startito anche gli autogol Marti eh ma tu di qua io di là no no andiamo a giocare ragazzi mamma dobbiamo vincere è bellissimo 60 secondi uno eh 2 a 0 vabbè non vuol dire niente no eh eravamo così bravi prima no eh e dobbiamo allenarci di più dai ci rifaremo Marti vittoria più 10 Yoshi faccia il secondo posto sempre un desi prima ok io e Peach siamo lì quarto turno di gioco Yoshi tocca a te 3 3 ah beh ma lui è quello che passa e sgancia solo una moneta esatto è lo schema di io mi do due ma non posso far arrabbiare così il prossimo pagherà di più ha mangiato il pesce to death sì anche a me è dispiaciuto e ha spostato la stella dall'altra parte poi anche hai pagato due no 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 spazio buona sorte guarda quante cose belle no ricevi 10 monete voglio che anche a me capitino cose belle no 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 scherzavo vuoi usare il dado maledetto no come si fa? ah ma in effetti il dado maledetto è utile ah infatti se vuoi andare avanti ma dai è vero usi il dado maledetto è completato il giro ben fatto anche 10 monete per i tuoi sforzi ma che brava grazie caro monete per tutti ma se vuoi andare alla stella adesso devo rifare tutto il giro yes dove vai? all'imprevisto sarà una cosa buona o meno no ancora magari per la sposta più vicino che gentile no torna dove era prima quindi più vicino a te e più vicino a me anche speriamo incredibile ci sono scambiati di posto uh peach eh ma non so se le bastano lancia lancia ne servono 20 quante stelle servono? eh peccato ah non hai abbastanza stelle peach vediamo dove sei no no ah puoi rubarle a qualcuno chi scegli? ah Yoshi vai Yoshi è un sacco di monete ci sta allora io ho meno 11 meno 13 dai diamo a chi ha di a meno e prendiamo a chi ha di più ah vedi che posso usare oh di si vai sono l'ultimo ma questo non vuol dire niente guarda c'è tanta tarpa che va yeah sono bellissimi gli sticker wow hai davvero la tua mia sua star no ce l'hai fatta yes vuoi tirare una stella? si meno 20 ok questa stella è tutta tua guarda bel colpo ma che forti gli sticker stella ottenuta stella ottenuta yeah e avanzo pure e prendo monete mini gioco fermate Mario eh come hai fatto tutti assieme è bellissimo fare le espressioni con i fumetti pesca con i guanti oh che bello imposta a distanza lancia rilascia lancia lenta ruota oh cosa? via si parte vai oh quasi 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 tira la lenta tira la lenta tira la lenta tira la lenta vai forza 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 oh no ho sparata per un pelo quasi dai che ne ho presi tanti dai le prove dai 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 ho presente grande ma non è facile eh cioè c'è pieno di roba no ma ma come hai fatto ancora? Ale spiegaci il segreto eeeh un po' di forza per un altro ma come hai fatto? ho preso un baule ma come ho preso un baule? porta oh per un pelo vediamoci dentro lancia Mario la disperanza no grande Peach ho vinto eh siamo esperti le due principi di tesori noi e la classifica resta uguale perché Mario prima? eh perché ha una stella perché le stelle sono più importanti e il dado dice? tre uno due tre tutto tranquillo è che è per te e dovevamo arrivarti che alla fine è andata di nuovo a volare la stella si è vero di nuovo a volare dado doppio non è male? eh si uh spazio e buona sorte che fortuna avrai dai monete a Davide ricevi sette monete non c'è quella no non c'è Aniki sei buono vai giù spazio buona fortuna ti arriva qualcosa di buono l'evento tanto atteso è giunto lo spazio buona fortuna dai una stella a Mario eh si ma non c'è là quindi fortuna che avevo una stella ti è andata bene non ci sono stelle da scambiare vai 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 sette andiamo uff comunque visto che è se hai cinquanta monete si puoi scegliere la stella esatto no scusa premi premi vai via vai via vai via ora come lecca lo facciamo anche nella realtà eh almeno a tredici bel colpo eh no evviva spazio imprevisto ecco venti stampi non c'è si si c'è questo è vicinissimo a quello lì no ragazzi mini gioco bonus monete per due fuga dalla casa stregata no là no non volevo andare là ma hai saltato nella porta se non è riuscito allo stesso piano eh perché non hai preso la porta giusta no eccoci ciao mario noi siamo tutti fuori dobbiamo giocare va quando passa l'ultimo la porta si blocca ok vado la casa stregata effettivamente bisogna seguire il primo quello più avanti vai questa io no ho sbagliato porta è giusta questa si 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 è giusta giusta non seguitelo trovo questa avete visto che no questa è in mezzo matti quella è in mezzo vai 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 no ho sbagliato no è l'ultima matti l'ultima è in fondo di qua adesso mi hai capito qual è no ma gliel'ho detto no di qua mamma mi pare no tutto dall'altra parte matti grande vai vai si 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 forza guardate come corre peach con le gonne con la gonne carino mi è piaciuto anche se sono arrivata l'ultima vabbè e in classifica Yoshi avanza mancano solo 5 torni diamo un'occhiata alla situazione al primo posto c'è Mario esultate per Mario via bravi no ma come no complimenti complimenti allora sono se Yoshi yuppie fa tanta tanta complimenti la previsione la previsione ascoltiamo la voce delle onde chi vincerà secondo il pesce smack ha detto Yoshi eeeh non ci credo di solito vince sempre chi dice non è vero adesso cosa ti dà un piccolo bonus tubo dorato prima dice che vince poi gli dà il tubo dorato grazie che vince uno lo uso subito eh teletrasporta una stella gli spazi blu ci danno 6 monete o meglio eh io no si oh ci togono 6 se i due componenti sono su spazio partirà un duello la gara è ancora aperta Matti diamo nel nostro meglio e vabbè vedete cosa fa Yoshi adesso guarda Matti ma ti sembra giusto brava sono d'accordo con te uno alla stella vabbè lui ha fatto 10 magari dice di no esatto non mi piace dai faccio complimenti ciao stella ottenuta stella per Yoshi ah più monete di me lui adesso eh no ah si sì 31 no grazie spazio buona sorte fermatelo eppure sette monete eh troppo gentili dai Yoshi cosa hai fatto al gioco ah avevo il dado doppio vabbè e poi devi giocarlo 6 una cosa tranquilla vai Peach tocca a te 6 state conoscendo con eleganza Peach spazio buona sorte wow vediamo cosa avrà in vantaggio oh 10 monete Matti vai 8 11 alla stella 38 alla stella vabbè 11 no eh eh 3 monete questo è sempre di più passo ma scusate ma di fare spazio buona sorte anche sì potresti premere no mi ero dimenticato 12 monete mi rigioco secondo me la predizione è sbagliata 12 vedremo tutti assieme oh 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 conto alla rovescia vediamo salta pugno cazzo questo è già caduto tipo ancora che si cade quello più lungo devi stare quando finisce il conto alla rovescia cioè tu cadi vedi numero 6 numero 5 6 8 ma hai spinto giù Yoshi ma non si fa non si fa come la principessa salto sì cominciamo andiamo a giocare andiamo a giocare ma che bella piattaforma che ha avuto questa pelle occhio eh aiutate attenti a Yoshi guarda pugni perché è Yoshi lo ha pugni no toro desi prendi questo 4 no no beh io desi a pugni no lo stavo tenendo sì no stavo andando sul 7 beh avrete che è il tipo timido che ha portato che carino mi piace Yoshi come protesta vabbè vogliamo rifarci pitch vediamo ancora detta l'ultima parola si avvererà la previsione Yoshi cosa succede ma ma come ma questa previsione mi sembra guarda quante non finiscono forse potrebbe arrivare anche una stella amico di Mario parca addirittura allora farebbe troppo hai l'oggetto vediamo desi consulta la mappa cosa hai visto desi desi nasconde la mappa desi tira fuori la mappa prende l'oggetto dado doppio vediamo di non sbagliare ma tu ti manca è solo 7 dai ce l'hai fatta desi ah sì eh sì guarda che botta non c'è Mario qua tu dici ma vediamo perché pitch comunque adesso sarà vicino a una stella forse 10 buona meno 10 vediamo un regalo un oggetto che viene tramandato sarà sempre quello 16 monete vediamo cosa ti regala simpatico anche lo spazio bowser adesso che succede ma di testa e stella complimenti per aver raggiunto lo spazio bowser ora vedrai sub cosa succede ma c'è un altro ottimo di 100 stelle attenzione no dai 20 monete a bowser pensa che se avevi fortuna ho 12 però però hai ancora va bene però c'è ribere sto momento eh il momento bowser era proprio no solo 2 quante invece arrivano no oh molto bene mi dispiace grazie minigioco 2 contro 2 vai papà yes allora io mafi voglio tipo la pizza si le capirà allora vedi che vende le monete questo gioco arriva da mario party 3 mia insieme vada 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 gira 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 vai insieme no vaciba vada 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 no gira 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 presa 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 vada collaborare vai vai collaboriamo mafi mia ah mafi non ci siamo Mattevichi Yoshi sempre primo 90 monete tiro eh 4 4 tubo dorato si è preso il tubo dorato 4 natural 27 bello tipo il monopoli ti da stelle quando passi le stelle magari spazio imprevisto eh te pareva eh ma io il tubo sai è vero che tu papà adesso tu finirai su voi ancora ah sono la? devo tornare indietro però io 24 e la stella come faccio a tornare indietro? eh devi fare il giro pure ah puoi imparare monete chi ce ne ha di più insomma? io anche perchè è pericoloso perchè sta per andare una stella scaccia scaccia leccatelo dai è andato anche bene sei stato bravo prendi tutto pitch yes spazio oggetto spazio oggetto salta su un barile vai salta uno uno due ed eccovo un bel dado di sfortuna si va bene 14 monete chiede sempre di più esatto se avete notato no prima è la 16 grazie ma perchè esulto? perchè vuoi tutto lo stesso oh no ho messo che sai che il negozio coltato ci sono dei casi in cui può servire un dado eh sì sì si deve andare avanti di poco ma ti giochiamo assieme pronto Mario? divora pizza gara di Bob uno è sulla neve uno prendi 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 vai accelera è più a parte semplice uuuuuh attenzione nooo no siete cadute era la nostra pista Matti ma il bello che poi il minigoco che possiamo fare liberi si si Ho messo una gara di ghiaccio Occhio perché se noi usciamo siamo in parità Ah, non ti rallenta Sto il turbo in curva Ah, c'è la poppa di ghiaccio Fine Uh, frena Sì, bravi Più 10, più 10, tutto resta uguale Tubo adorato Ecco, l'ho usato, lo sapevo io Uno alla stessa 10, 10, sempre 10 quando... Beh, ma è troppo facile Grazie, grazie La vuoi o no? Perché puoi che scegliere, no? Grazie La cartella è tutta di Yoshi Ti è finito su V Ok Ne hai 50 Puoi prendere anche un'altra stella Sì No Chissà chi è Aruba No Aruba qualcuno Pensavo che la prendesse così 3 di tutti 3 che mi leccano No E non mi puoi difendere No, è giusto No Grazie, grazie Matti, mi prende tante monete Così sorpassi anche le mani Spazio imprevisto, dai Qualcosa di non buono Ecco, mi scendiamo Finirà vicino Beh, giusto? Pox, qua è il percorso di figlio Di un altro di quello... Va su e giù dall'alqua L'alqua Di qua di là 6 Monete Vai, Peach Dai, un bel tiro Bisogna il caso 2 E con 2 Che succede? Quando ho due più giocatori Ah sì, c'era il duello Ti ricordi? Sfida, Peach Yoshi Scegli quante monete vuoi puntare 2 2, ok Che duello è? Possate attraverso Massa attraverso diversi cancelli Rotanti Cerca di raggiungere il traguardo Che non si sa dove sia però Ah, ecco te lo fanno vedere No Tranquilla, rientra, rientra Vai Esci, esci Povero Yoshi Noi ti chiamo per Peach Ma solo perché Yoshi è primo No, perché io e Peach Vi ricordate Siamo bravi nelle prove E poi ci perdiamo un po' Quando si tratta di fare la competizione La competizione vera e propria Bella entrata, Peach Buona mossa Aspetta, Peach vuole pazienza Vai Sì, sì, buona idea Vai, vai, vai Grande Oddio, siete uguali Vai, 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 Peach, vai Attenzione 4 per Yoshi Che è ancora cambiata la stella Vai, Marietto 22 Non ce la farò mai Oh Vai, 10 monete Spazio imprevisto No, ancora Vai, vai vicino a Mati Vai, 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 Mati Te lo porto vicino a te Qui mi gioco Un Tutti contro tutti Oh, cosa esce, cosa esce Tu vuoi dire po' la pizza Teni una particolare Ecco, io sono già pericolata giù Eh, anch'io Anch'io Ah, questi sono quelli che piacciono a te Oh, sì, ma casco sempre Guarda che c'è brava Via 60 secondi Eh, benissimo Che è caduto? Io Ah, però ti tira su? Sì, sì Ti spingo Ah, no, mi spingo Oddio, no No, sono distratta Sono andata a distratta Abbiamo fatto caduta di coppia Le cose ci sono percorsi stretti No Perché poi non vuoi dire Non è che avrei difficoltà No Non vado avanti a salti Così, dico Tu, tu, tu Tu, saltare? No Sì Sì Ultimo turno Ultima possibilità Yoshi tira e va 9 Tuttuttum Tuttuttum Uno Però Eh, sì Dove vuoi che vada Magari mi ha previsto una stella in regalo Ancora Ho previsto Mi sa che è sempre quello Hai ragione Ultima turno per Peach Uno Lancio Sei Dai, dimmi che succede qualcosa Sono monete Ultimo minigioco Oh Oh Bobo Gumba in gabbia Oh, è pieno di gumba, ragazzi Sono quelle dorate Dobbiamo far cadere la nostra gabbia A prenderne più possibile Prendere più che si può Pronti? Oh, io, io Allora Il momento giusto Il momento giusto Ci sono tantissimi Ma questi se ne vanno Questi se ne vanno Esco dalla porticina Uno Due Ma che carini sono Il dorato vale tre Uno Uno Vittoria Pigi, Yoshi e Mario Bravi Sì, tutti assieme La barriera si è conclusa Ottimo lavoro Ora vinceremo i risultati Chi vincerà? Oh Ecco i bonus Attenzione Bonus Dinamismo Questo bonus Chi ha attraversato più spazio? Bonus Oh Daisy Secondo me Yoshi Grazie Il secondo bonus è Impreviste Chi è stato più imprevisto? Um Papà Secondo me, papà Tu dici Secondo me è tu Vediamo Daisy La regina dell'imprevisto Bel combo E Mario Lo possiamo fare Un altro bel combo E' giusto Il concorrente vincitore Non credo di sapere chi è Oh Quando vince Lo lecchiamo tutto Come ha fatto Buon cosa dici Ci mangia? Chi ci ha mangiato? No Sì I pesci Leghiamolo Leghiamolo E adesso Una principessa C'è quella che ha perso Conosce i minigiochi? Giusto E' al monte Minigiochi Vai al monte A bordo di questa nave Si arriva al monte Minigiochi Saliamo Questo è il monte Minigiochi Modetta libera Cento minigiochi in tutto Vai Non sai quali Non scegliere Brava Anche io Scegliere In base al genere Pizza Unisci tanto con corrente E mangiate più pizza Che potete Per masticare la crosta Io con Yoshi No io con Yoshi Io con Yoshi Ok Il controgrande No ma sono carinissime Previ il bottone Per mangiare Previ tante volte Guarda Peach Quanto mangia Perché secondo me L'occupa un sacco di spazio Con quella gonda Hai visto? Io voglio anche La modalità cheesecake E poi crostata E poi panino Con la nutella Vai giochiamo Giochiamo che è bellissimo Andiamo Io faccio la crosta Io faccio il dentro Allora facciamo valere l'esperienza Certo Dai io salame 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 Io mangio la crosta Come il pomodoro Se che a me pianta No no è salame salame Pecante Pecante Noi facciamo un trucco Uno fa al dentro E uno fa al fuori Guarda io fanno tutta una zona Guarda Mangia anche la crosta Sai Su crosta di coppia Facciamo come lì Il vagabondio Oh bacini Non mi stagliamo Ciale Noi 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 siamo stati più ordinati Eh sì No 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 E come graffi Dai Giochiamo a Pia Dobbiamo fare la rivincita Perché prima i matti Siamo stati bravissimi E voi avete sfruttato La partita Verrà per mettere Occhio Che noi siamo La scheda da blu Questa volta No Benissimo Pesa 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 Occhio Occhio rimbalzi Sono concentratissimo Ragazzi Noo Noo Bravo Yoshi 2 a 1 La partita si fa intensa Noo Presa Noo 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 Ci vuole lo spareggio Perché adesso siamo 1 a 1 Era bella Sì Neanche toccata la palla Nessuno Tra l'altro Grande Avete visto che schema Fai mettere Noo Che siamo a fare Eh no Presa Occhio C'è gli occhi in difesa Vai 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 Noo È sempre in mezzo Però è stato bello Vabbè guarda Così Due pari ragazzi No vabbè Perché l'ha lanciata Contro di noi È vero È che si giocarebbe All'infinita Questo gioco È bellissimo A noi Mario Party Superstar È piaciuto un sacco Ah non quando prendo gol Però E se anche voi ragazzi Questo video è piaciuto Mettete un pollicione E non giocate Mentre Mettete pollicioni Altrimenti perdete No ma iscrivetevi al canale YouTube GBR Per non perdervi I prossimi video Ciao